Si chiama mismatch, è la particolare condizione che si sta verificando in Italia, il divario tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Non si trovano le persone necessarie per rispondere alle richieste del mondo produttivo, in particolare nella mano d'opera. A dirlo sono i dati di Union Camera e Ampal, che tracciano il bilancio del 2023 appena concluso, ma soprattutto danno le prospettive per l'anno nuovo. Una condizione generalizzata lungo lo stivale, pensate, sono oltre mezzo milione, per l'esattezza 508 mila, i lavoratori ricercati dalle imprese per gennaio 2024. Di queste le assunzioni di difficile reperimento si aggirerebbero attorno alle 250 mila, praticamente la metà. Tra le cause principali la mancanza di candidati, nel 31% dei casi, seguita da una inadeguata preparazione, il 14%, una situazione confermata anche a livello territoriale. In provincia di Cremone i lavoratori previsti in entrata sono 3.430 solo per il mese di gennaio, così distribuiti. Il 19,5% nel gruppo professionale di dirigenti e tecnici, il 23,6% impiegati, commercio e servizi, addirittura il 42% delle professioni richieste sono nell'ambito degli operai specializzati, uno dei dati più alti in regione, il 14,9% per professioni non qualificate. Dal mondo dei sindacati riflettori accesi anche sul fenomeno dei NIT, i giovani non inseriti nel mondo del lavoro né in quello della formazione. Questa realtà del mercato del lavoro che da una parte non trova figure e dall'altra a giovani che non lavorano e non studiano, è un fenomeno purtroppo in crescita non solo a livello nazionale, territoriale e lombardo, ma anche a livello europeo. Ecco perché si rende necessario creare una condizione in cui da una parte i percorsi formativi e anche il collegamento, il mercato del lavoro e il mondo delle imprese e scuola devono essere sempre di più tutte in un'unica direzione. Dall'altro è necessario che attraverso le politiche del lavoro, attraverso il goal, si dia spazio e recupero a quei giovani che oggi sono fuori dal mercato del lavoro attraverso il percorso informativi e il percorso di inserimento al lavoro. C'è bisogno di una strategia complessiva che tenga in conto da una parte le richieste di nuove competenze e dall'altra di inserire sempre più i giovani, soprattutto quelli marginali che se sono una condizione di fragilità e che rischiano di essere fuori dal sistema sociale.